Grazie a tutti. 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 Tutto fatto. Allora, adesso... Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... 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 che aveva la possibilità di ammettarsi dell'opera dal solito 3 metri, 3 metri e 50, cioè per una persona della sua età in un ambiente così chiusa e stretta è un miracolo che abbia già interpretato e scritto così bene. E lui è molto contento perché ha l'intenzione di continuare in questa direzione, mi lascio la parola. Poi veramente la mia intenzione, perché questa è una grossa fatica, cioè di continuare su questa dimensione, anche perché andando avanti con gli anni c'è una nuova capacità di lavoro. Comunque è una strada delle linee che spesso in propria cultura e per cui sono in caso di uno schema che ha appena disegnato, e che sono per ora, e credo che anche messo a scambio di lavorato in piano, che è anche messo a scambio di risultato con i suoi spazi. Grazie. 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 Quale foto chi sarebbe? Quei capelli lunghi, bruni, quella con una nera. Grazie. 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 Salvatemi sapere qual è? Penso tramite la nana? Poi gli chiamano. Lui vorrebbe metterci questa famosa scrittura che aveva fatto il Palo di Puglia a Giugno, cioè lui ha fatto una chiesa, non so, qualcosa, per cui si pure è una strumenta, perché si dovrebbe partire da lì, cioè di fare qualcosa che non dice a Giugno, perché per questo dice, c'è la staccia, è l'unica cosa che si può fare, però possiamo fare qualcosa che si può fare, che si deve evitare quella, cioè non una copia, ma un originale, come se siete voi, i literani, i miei, giusto? Non lo facciamo adesso, non lo facciamo, Simone, è un piacere, ti ha avuto un'altra, tanti auguri, con carmuccia, con carmuccia. Sì, prego, no, di te, per te, per te, per te, per te, per te. Sì, prego, no, di te. Sì, prego, no, di te. Sì, prego, no, di te. Sì, prego, no. Sì, prego, no, di te. Sì, prego. 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 Sì, prego.